La complessa crisi socioambientale sarà il tema della settimana sociale dei cattolici giunta alla 49esima edizione che si terrà a Taranto dal 21 al 24 aprile prossimi. Il tutto è stato presentato nell'aula consigliare della regione Puglia. Si è tenuto l'incontro dal tema il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro, futuro, tutto è compreso. Avete riassunto il tema del prossimo ottobre in una sola crisi, quella socioambientale. Certo, la questione non è solo la difesa dell'ambiente, come dice Papa Francesco, non è separabile dalla difesa della società, dalla difesa della cultura, dalla difesa della vita quotidiana. Un'unica crisi antropologica. L'uomo o è il depredatore della natura, dell'ambiente, ma anche degli altri, delle persone, o è colui che tratta la gente come un dono, come un'opportunità di crescere insieme. All'incontro c'erano tra gli altri il presidente del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali della CEI, Don Antonio Panico, preside della LUNSA di Taranto, Don Matteo Martire, segretario della Commissione Regionale per i Problemi Sociali della Conferenza Episcopale Pugliese. A fare gli onori di casa il presidente del Consiglio Regionale Pugliese, Loredana Capone. Abbiamo approvato in questo Consiglio Regionale una mozione all'unanimità, proprio per indirizzare i fondi del PNRR verso uno sviluppo sostenibile, che tenga conto dell'ambiente, ma anche che localizzi gli interventi esattamente lì dove servono. Taranto, per esempio, rappresenta un'emergenza.